Cosa può causare stitichezze e sgabello sanguinante? Ci sono molti problemi che possono causare stitichezze e feci sanguinolente. Tra le cause comuni di costipazione ci sono carenze nella dieta di una persona, come un apporto inadeguato di liquidi e fibre. La mancanza di esercizio fisico, alcuni tipi di farmaci e alcune condizioni mediche possono causare anche questo. Le feci sanguinolente, d'altra parte, possono svilupparsi a causa dell'irritazione delle feci dure e compatte che causano i tessuti intestinali o lano. Una persona può, tuttavia, anche sperimentare feci sanguinolente in relazione ad alcune delle condizioni mediche che causano anche stitichezza. La stitichezza è un problema abbastanza comune che molte persone provano occasionalmente, anche se alcuni possono sviluppare anche la stitichezza cronica. Questo problema può avere una serie di cause, ma tra le più comuni vi è l'insufficiente assunzione di acqua e altri liquidi e la mancanza di fibre adeguate nella propria dieta quotidiana. A volte le persone diventano stitiche a causa della mancanza di esercizio fisico, come sintomo di un'allergia alimentare o in reazione a un farmaco. Anche le condizioni di salute croniche che colpiscono il sistema digestivo possono essere critiche. La malattia di Crohn, che è caratterizzata da infiammazione dell'intestino, è un esempio di una condizione medica che causa intestino difficile da spostare. Stitichezze e sintomi di feci sanguinanti a volte si sviluppano contemporaneamente. In molti casi, le persone sviluppano feci sanguinolente perché le feci troppo dure irritano o addirittura lacerano l'intestino o l'ano. A volte questo accade quando una persona spinge e si sforza per far uscire le feci dure dall'ano, ma può anche svilupparsi quando una persona non ha fatica. Inoltre, una persona può sviluppare feci sanguinolente quando ha le emorroidi, che sono vene gonfie che sporgono dall'ano e sono comunemente causate da costipazione e tensione per avere un movimento intestinale. Una persona può anche avere una condizione medica che causa sia stitichezza che feci sanguinolente. Questo di solito comporta condizioni che influenzano il sistema digestivo, come il morbo di Crohn. La malattia di Crohn è caratterizzata da crampi, dolore con movimenti intestinali, alte temperature e feci acquose, ma può anche causare stitichezze e feci sanguinolente. La malattia diverticolare, che comporta lo sviluppo di sacchetti nel colen di una persona, può causare entrambi questi sintomi. Inoltre, il cancro del colen retto può causare feci sanguinolente e movimenti intestinali difficili. È difficile per una persona determinare da sola la causa alla base della stitichezza e dei sintomi di feci sanguinarie. Invece, una persona che manifesta questi sintomi è generalmente consigliata per vedere un medico per la valutazione. Anche i sintomi minori possono talvolta apparire come segni di una condizione grave che richiede cure mediche.